Non corre la numero 9 Regina Prix, cambio di guida, il 13 Redivald guidato da Gervasio Galloso anziché Gennaro Tufano, Rialto Bitt senza ferri anteriori, Rodigo Zak senza ferri, Runaway DVM, Redivald senza ferri posteriori. Stacco della macchina con Ramirez che dall'esterno scavalca il galoppante Rialto Bitt, problemi anche per Royal Team, in seconda posizione c'è Ramira, 14-1 i primi 200 metri. Si va lungo l'arco della prima curva con Ramirez in vantaggio, i primi 400 metri in 37, va a riprendere in mano il battistrada Ramirez, viene via in terza corsia Razzo di Lilli. Che gradualmente affianca Ramira, perviene su Ramirez all'altezza dei primi 600 metri in 46,3 in seconda Parigliace, Redivald l'errore nella squalifica per Runaway DVM. La mossa di Rudidorio in terza ruota. Mezzo miglio iniziale, se ne va in 1-3-6, 17-3, tattico impiegata, arriva Rudidorio al fianco di Razzo di Lilli che gradualmente si porta con decisione sulla battistrada. Razzo di Lilli che è preponderante ma finisce con lo sbagliare dopo mille metri in 1-19-3. E così è Ramirez ora al comando, sbaglia anche Ramira, diverse le rotture a 500 alla conclusione. Ramirez in vantaggio su Rudidorio quando i cavalli affrontano la curva conclusiva, 15-4 il parziale. È Rudidorio che sopravanza Ramirez trascinandosi Rabicano di Lecce, poi Roi PDL e Redivald. I cavalli che entrano in retta d'arrivo con Rudidorio in vantaggio, attaccato da Rabicano di Lecce. Poi Roi PDL che sopravanza Redivald, Roi PDL che prova di ingambarsi, Rudidorio ancora in vantaggio. Roi PDL che ci prova sul palo, 3 cavalli sulla stessa linea. Rabicano di Lecce, Rudidorio e Roi PDL. Ma davvero la foto è molto molto stretta. 2-6 abbondanti, 31 e mezzo la chiusa, 1-18-9. La media al chilometro, foto strettissima. Andiamo a rivedere. Di dentro Rudidorio allargo Rabicano di Lecce, si ingamba. Allargo di tutti, a grossa quota Roi PDL. Davvero incertissimo il discorso successo. Rabicano passa a Rudidorio, questo dovrebbe essere sicuro, ma interviene. A centro pista Roi PDL potrebbe essere 12-5-8, 5-12-8. Questa è la mia personalissima impressione, ma è davvero difficile da capire da questa inquadratura.